Buonasera, ben trovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. Inchiesta rimborsopoli, cresce l'attesa tra gli abruzzesi per gli interrogatori di garanzia in programma il 4 e il 12 febbraio a Pescara per assessori e consiglieri regionali. Pronto a chiarire la propria posizione davanti ai giudici, si è detto l'assessore regionale all'agricoltura Mauro Febbo, mentre il consigliere Franco Caramanico di SEL aggiunge e speriamo che la magistratura faccia presto. È tornato a riunirsi nella sede di Pescara il consiglio regionale d'Abruzzo nella prima assise del 2014, a pochi giorni dall'inchiesta della procura di Pescara sui rimborsi delle spese sostenute da 9 assessori, 14 consiglieri e i presidenti di giunta e consiglio. Volti tesi e preoccupati in aula, ma non è mancata la disponibilità a parlare. I primi interrogatori di garanzia per il governatore Chiodi e il presidente del consiglio Pagano si terranno il 4 febbraio. Tutti gli altri 23 indagati saranno ascoltati il 12. Tra questi c'è anche l'assessore all'agricoltura Mauro Febbo. Noi il 4 abbiamo la possibilità di documentare le nostre posizioni, il 4 chi se lo lavorerà lo potrà fare, io lo farò, chi non lo vorrà fare vuol dire che c'è un'altra strada. Tutti si dichiarano fiduciosi e invitano la magistratura a fare presto il consigliere regionale SEL Franco Caramanico. Io mi auguro soltanto che il 12, la giornata in cui pure io dovrò rispondere dei rilievi che mi sono stati mossi, ci sia la possibilità di chiarire ogni cosa e che si faccia in tempi brevi. Avrebbe dovuto essere inaugurata oggi invece c'è stato ancora un rinvio per l'apertura al traffico della variante 652 Fondo Valle Sangro al centro abitato di Quadri. Una frana interessa l'imbocco della galleria e le comunità locali si interrogano sul ritardo dei lavori. Al cartello che dice benvenuti a Quadri città del Tartufo andrebbe aggiunta la scritta città di Tir perché è questa la caratteristica immediatamente visibile a chiunque arrivi in paese. Anche alla telecamera del Tg Max non è sfuggito l'ingorgo all'ingresso di Quadri con le bisarche che dall'altro lato dell'Appennino raggiungono la Val di Sangro. In queste curve strette le automobili devono fermarsi e cedere prudentemente il passo a camion e auto articolati. L'ingorgo si crea anche all'uscita del paese, sul ponte accanto alla vecchia stazione della ferrovia sangritana dove i mezzi pesanti addirittura si sfiorano. Niente di eccezionale ci riferiscono in paese, sono episodi quotidiani ai quali residenti di Quadri sono abituati e ai quali si sta cercando da anni di porre rimedio. Come? Ultimando i due chilometri della variante esterna al centro abitato. Lavori attesi dalle comunità locali e che sono in corso dal 2005, sottolinea al Tg Max il sindaco di Pizzoferrato, Palmerino Fagnilli. Lavori che da un importo iniziale di 25 milioni di euro sono ad oggi raddoppiati. E finalmente arriva il 28 gennaio 2014, data della riconsegna dell'otto annunciata dall'ANAS. Il paese era tutto pronto con striscioni e cartelli, ma l'inaugurazione della gognata variante della 652 Fondo Valle Sangro si è fermata di fronte alla terza frana che interessa il versante d'imbocco della galleria. E le ruspe sono tornate al lavoro. Il decongestionamento del centro abitato di Quadri dovrà ancora attendere. E purtroppo siamo ancora una volta sorpresi di queste non sorprese perché è una frana che rifrana, una trifrana che costa allo Stato chissà quanti soldi e poi ci si lamenta che c'è la crisi e si tassano i cittadini. Basterebbe chiedersi delle responsabilità e responsabilizzare i responsabili. Probabilmente a questo punto molte cose si sarebbero risolte come per l'appunto la frana in corso. Per fare i lavori c'è stato anche un grosso lavoro di disboscamento lungo la strada? Sì, praticamente due grossi momenti di taglio boschio che invece doveva essere il contrario per contenere il movimento franoso. È chiaro che questo denuncia una particolare delicatezza e fragilità di questo territorio, di questo versante. Ci si chiede come ben quattro rilievi geologici non abbiano suggerito quanto almeno di non tagliare gli alberi e di usare accortezze in questo senso. L'ANAS ha rinviato l'apertura al traffico per consentire le verifiche necessarie all'accedimento causato, dice l'ente, dall'eccezionale maltempo che ha colpito la zona della provincia di Chieti. Ma qui, contesta il sindaco Fagnilli, il tempo è stato bello per tutto il mese di gennaio. Beh, l'ANAS ha detto che questo si è verificato in seguito al cattivo tempo. Per la verità, solo negli ultimi giorni c'è stato un po' di acqua perché nelle quadri più alte un po' di neve, giù a valle un po' d'acqua, ma per il resto, per la verità, è stato un mese di gennaio che sembrava primavera e ha regalato anche opportunità e condizioni di lavoro buone, per cui si poteva, come dire, tutto immaginare for che questo. L'ANAS dice per le cattive condizioni meteorologiche. Noi pensiamo che probabilmente farebbe bene l'ANAS a riflettere meglio e guardare il meteo la mattina. Elezioni amministrative di maggio a Pescara, Forza Italia, ricandida il sindaco uscente. Mascia è il nostro candidato, dichiara il neocordinatore regionale del partito, Nazario Pagano. Il nostro candidato naturale per le amministrative del comune di Pescara è il sindaco uscente, Luigi Mascia. Lo ha dichiarato il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano. C'è che più conta, però, ha detto, è che la coalizione resti unita perché l'importante è vincere. Pagano fa riferimento all'ormai ex presidente della provincia, Guerino Testa, in quota a nuovo centrodestra, possibile candidato alla poltrona di sindaco del capoluogo adriatico. Quando si tratta di correre per la carica di sindaco di una città importante come Pescara, è normale che vi siano delle ambizioni personali, delle aspettative da parte di partiti. Noi abbiamo una condizione posto agli altri alleati, che la coalizione resti unita, perché siamo assolutamente certi che andare separatamente significa perdere tutti. Quindi dobbiamo essere uniti. Sul metodo, relativo alla scelta, è ovvio che noi pensiamo che il sindaco uscente sia la scelta migliore perché significherebbe diversamente sconfessare cinque anni di buona amministrazione. E siccome tutti i componenti di questa coalizione hanno preso parte alla Giunta, hanno preso parte all'esecutivo, significherebbe sconfessare in un certo qual senso, sia pure in quota a parte, anche il proprio operato. Noi questo non lo condividiamo, pensiamo che quando un sindaco ha fatto bene non ha motivo di essere contestato per nessuna ragione, come nel caso di Luigi Mascia, debba essere ricandidato punto e basta. Pagano ha anche accennato alle elezioni regionali, commentando il sondaggio svolto il 20 gennaio scorso dal PD nazionale, quindi prima dell'inchiesta della Procura sul rimborsopoli, che vedrebbe a sorpresa la senatrice Stefania Pezzopane dare alla coalizione di centrosinistra un vantaggio di sette punti su chiodi e di tre su quello che viene considerato il candidato impeccatore alla presidenza della Regione per il PD, Luciano D'Alfonso. Uno va dai fatti propri, se sarà Pezzopane è bene, vinceremo contro Pezzopane. Ed ora a Lanciano, dove oltre 20 operatori dell'ente d'ambito sociale, 22 hanno manifestato questa mattina dinanzi al municipio per protestare contro il presunto smantellamento del welfare da parte del comune con la modifica, a partire da febbraio, delle modalità dell'assistenza domiciliare adi, degli anziani e delle famiglie con pazienti psichiatrici. I servizi siano realmente sociali e non esclusivamente assistenziali, hanno detto gli operatori, le nostre figure professionali non siano svalutate. Gli operatori hanno incontrato il sindaco Mario Pupillo, il quale ha garantito loro un prossimo incontro con l'assessorato alle politiche sociali per chiarire la vicenda. L'avvertenza riguarda la novità dell'introduzione dei voucher, quale pagamento dei servizi che permette al comune di eliminare le gare d'appalto. Un sistema complicato e già fallito altrove, hanno aggiunto gli operatori, per gli anziani e famiglie gravate dalla presenza di persone non autosufficienti. Abbasto oggi falso allarme bomba alla Banca dell'Adriatico in Corso Europa. Vediamo. Una telefonata anonima oggi mattinata ha annunciato la presenza di un ordigno all'interno della Banca dell'Adriatico in Corso Europa. Abbasto. Le operazioni delle forze dell'ordine a seguito dell'allarme sono terminate alle 14.30. L'ultimo tratto di strada è rimasto bloccato per tutta la mattinata per dar modo agli operatori delle forze dell'ordine di procedere alle ricerche in sicurezza. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia di Stato e polizia municipale. Nessun ordigno è stato trovato né all'interno né nel perimetro esterno della Banca, ma per maggiore sicurezza è arrivata anche un'unità cinofila da Pescara. Un labrador nero ha fatto un ultimo giro di ricognizione e alle 14.30 l'allarme è ufficialmente cessato e la strada è stata riaperta. Sul posto, per coordinare le operazioni, il vicequestore del commissariato di pubblica sicurezza, il dottor Cesare Ciammaichella, e il maggiore dei carabinieri Giancarlo Vitiello. Si tratta del terzo caso in pochi mesi, dopo il pacco sospetto al Bancomat della BLS in via Tobruk, nell'ottobre scorso e dopo l'episodio del 2 gennaio, quando sempre una telefonata anonima preannunciava la presenza di un ordigno nei pressi della Galleria Ferroviaria di Vasto Marina, che bloccò il traffico ferroviario per quattro ore. Ancora cronaca, è stato arrestato uno dei due malviventi che hanno tentato di rapinare oggi pomeriggio due rappresentanti di gioielli di Vicenza all'uscita della Gelleria Gemidi via Battisti, angolo via Piave, appunto a Pescara. In manette è finito Bernardo Torino, 27 anni di Napoli, con precedenti di polizia, dopo un inseguimento a piedi in macchina per le vie del centro della città. L'uomo insieme a un complice, riuscito a fuggire a bordo di una moto, aveva tentato di rapinare i due orafi veneti, che hanno però opposto resistenza. Nel corso della quale uno dei due rapinatori ha anche esploso almeno un colpo di pistola con una scacciacani recuperata successivamente dalla polizia. Torino è stato rincorso e bloccato dal gioielliere e da alcuni passanti poi arrestato. Gli uomini della squadra mobile stanno cercando l'altro rapinatore. Uno dei due rappresentanti aggrediti è stato portato al pronto soccorso di Pescara per essere medicato. Ancora cronaca, ma a Lanciano la polizia ha arrestato un 21enne disoccupato di origine cubana, ritenuto responsabile di uno scippo ai danni di una donna di 63 anni della città. Il giovane a cule iniziali si sarebbe avvicinato a bordo di un motorino alla donna chiedendo le informazioni e anche un bicchiere d'acqua, per poi strapparle dal collo una collana d'oro. La pronta reazione della vittima, l'intervento del marito e di altri parenti ha messo in fuga il giovane che non è riuscito a recuperare la collana rotta. Dalle informazioni raccolte sul posto dove giunta poco dopo il fatto una volante del commissariato e dall'attività di indagine successiva, gli agenti sono risaliti appunto al 21enne di origine cubana. Il giovane è stato arrestato su disposizione del GIP del Tribunale di Lanciano Massimo Canosa che ha accolto la richiesta del PM Ruggiero di Quonzo. Il 21enne si trova nel carcere di Lanciano a disposizione dell'autorità giudiziaria. La pagina dello sport, il calcio doppia seduta per la Virtus tra il Villa delle Rose e il sintetico di San Buceto e sul fronte calcio mercato. Il centrocampista Luca Verna è stato ceduto in prestito al Chieti di De Patre. Doppia seduta oggi per la Virtus di scena sul sintetico di Villa delle Rose al mattino in trasferte a San Buceto nel pomeriggio per trovare situazioni ideali per allenarsi con profitto, visto il terreno pesantissimo al limite della praticabilità degli impianti lancianesi. Il clima è sereno, la fiducia nei propri mezzi comunque è altissima. La vittoria col Brescia ha infatti riproposto un Lanciano solido e concentrato, squadra di categoria con tutte le carte regola per raggiungere in fretta quota 50 e poi divertirsi a più non posso. Bene anche il primo giudizio sui nuovi arrivati, come il ragazzo, hanno sicuramente rinforzato la squadra. Mister Baroni in conferenza stampa. Se una società, un club, una squadra vuole raggiungere gli obiettivi e quindi vuole crescere, la possibilità di avere a disposizione dei buoni giocatori, avere più risorse non è altro che un vantaggio. Poi spetta a me gestirle queste risorse, però il fatto che Ferrari abbia fatto una buona partita, che non avevamo dubbi su questo, che sia Comi che Ragazzo quando sono entrati hanno fatto molto bene. Questo va un po' nella direzione di quello che ci siamo sempre prefissati, cioè di fare dei piccoli passi cercando di migliorarsi, ecco solo questo. Da venerdì la squadra sarà Reggio Calabria sul terreno di una compagine esaltata dal successo di Bari ma che in classifica soffre nelle ultime posizioni. Solita battaglia con tutti i rossoneri in buone condizioni e nessun squalificato. Ancora Baroni. Io quando è venuta qua la Regina prima di giocarci contro pensavo che fosse uno degli organici più importanti, era stata costruita per festeggiare anche i cento anni di storia della società, quindi fatti degli investimenti importanti. È chiaro che se sono lì qualche problema c'è. Noi dobbiamo pensare appunto eventualmente a creargli dei problemi a questa squadra, però non mi aspetto, mi aspetto una squadra tosta, una squadra che ha ritrovato entusiasmo, una squadra che ha assolutamente tutto in gioco, quindi sarà una partita difficilissima sicuramente, però proprio per questo dobbiamo affrontarla noi con grande attenzione e grande concentrazione. Ecco, questo dobbiamo assolutamente prepararlo. Calcio mercato in casa Delfino. Il Pescara stringe per il terzino Simone Salviato del Novara e il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto. Adesso manca un tassello a centrocampo. Alle spalle la debacle di Castellammare tiene banco il calcio mercato con un nuovo tassello che si aggiunge al mosaico bianco-azzurro. È praticamente fatta per Simone Salviato, esterno classe 87 del Novara. Cresciuto nel Padova, trascorsi con Venezia, Trento, Rovigo, Mantova, Livorno. Giocatore duttile, esperto difensore, sia con una retroguardia a 4 che a 5. a Novara ha trovato poco spazio. Dunque arriva Pescara con motivazioni forti e in prestito semestrale con diritto di riscatto a fine stagione dell'intero cartellino. Dopo la difesa si attende un rinforzo per il centrocampo con un possibile scambio sull'asse Modena-Pescara. Gli emiliani cederebbero ai bianco-azzurri il centrocampista Tommaso Bianchi di proprietà del Sassuolo, mentre dall'Abruzzo si potrebbe trasferire in prestito Sforzini. Questione di ore e tutte le operazioni comunque avranno epilogo ufficiale. Il presidente Daniele Sebastiani. Ci sono giocatori che noi abbiamo in mente di portare a Pescara, è chiaro che sono giocatori che stanno giocando in altre squadre ed è chiaro che non tutti sono poi nella possibilità di spostarsi come è successo per un paio di giocatori che ci interessavano. Questo ci ha fatto un po' perdere del tempo però sicuramente siamo attenti e pronti a fare quelle operazioni che ci serviranno. Ritengo come ho sempre detto e come ho detto all'inizio di questa sessione di mercato che questa sia una squadra già molto completa quindi non è che dobbiamo fare gran che. Intanto la squadra lavora sodo in attesa di ricevere il Trapani sabato prossimo. Squalificato Zuparic tra i biancoazzurri, la squalifica è scattata anche per il trapanese Ciaramitaro. Il Pescara ovvio vuole ottenere un successo confortante per tornare a fare la voce grossa e cancellare una debacle che in molti non hanno digerito. Il Tg Max termina qui, vi ricordo che Tg Servizi e Programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie per la visione!